tu brutta almeno non sono piatta ora è evidente che patetica impostora sei ancora con questa storia io non sono falsa non fingo di essere te certo che no ma sei stata comunque creata per essere come me perciò sei ancora un impostora ma di che cosa stai parlando tu sei fuori è come ha detto la dottoressa ti ha resettato la memoria ma di che memoria parli non sono mica un robot tu sei un esperimento biologico creato dalla dottoressa egg lady lei ha tentato di fare la stessa cosa che sua nonna ha fatto con me ovvero un'arma tu sei un'arma proprio come me dove vuoi arrivare vuoi forse che mi unisca a voi forse qualcuno voleva che assomigliasse a te ma alla fine si tratta di una mia decisione una mia scelta io ho deciso cosa essere perciò non mi importa da dove provengo cari Grazie a tutti.